Un ciclista è stato investito a Tricase sulla via che conduce ad Alessano. Si tratta di un uomo di 70 anni ricoverato in gravi condizioni al cardinale Epanico di Tricase, dove vi è giunto in codice rosso. A colpirlo una Ford Focus Station Wego. Il ciclista, prima di finire rovinosamente a terra, ha sfondato il parabrezza dell'auto. Sin da subito è emersa la gravità del sinistro. La zona è stata raggiunta dai sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato, trasportandolo d'urgenza in ospedale. Per le indagini sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase che hanno sequestrato i mezzi. Spettano a loro ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il giovane alla guida dell'auto è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. L'arteria stradale in questione è poco illuminata. Il giovane potrebbe essersi trovato davanti il ciclista all'improvviso. Per ripulire la carreggiata è intervenuta la ditta sicurezza stradale ambientale che ha portato via i mezzi sottoposti a sequestro. Grazie.